io mi chiamo De Rosas Angelino nato il 16 12 1922 a Orosei Sardegna abito qui dal 1945 e dunque qui c'era già allora mio padre che lavorava con l'impresa ingegnere sugli anni e tissoni e allora io ero ancora la in sardegna è venuta a prendermi e sono rimasto qui e siamo rimasti poi tutti qua noi abitevamo in via stengo via stengo quei tempi la su un ultimo piano famiglia mio padre mia matrigna perché mio padre poi si è risposato e anche io mio fratello poi poco poco più avanti dove c'è gli amaretti a stengo c'era che adesso c'è la emilus lì c'era un fotografo gentili allora mio padre dice andiamo a vedere se ti prendono come garzonetto siamo entrati lì dentro abbiamo chiesto avete bisogno di un garzonetto mi hanno preso mi hanno preso e mi hanno fatto vedere subito com'era tutto quanto mi ha entusiasmato a vedere come lavorava allora ci sono rimasto sono rimasto per 5 o 6 anni da la sono entrato lì in quel negozio di ottica e facevo la fotografia ho imparato da solo a un bel momento c'era lì in via boselli l'ottico jolly e io prendevo il lavoro che il suo glielo faceva anche a lui allora traldine era geloso che faceva lavoro per quello e mi dava meno lavoro a me che io avevo la camera oscura a parte via giacchiero allora dandomi il lavoro così poco glielo ho detto signor tra di lei mi sta dando poco lavoro non mi dà più lavoro di una volta io ti do tutto nonno si sbaglia lei mi sta dando poco lavoro allora sapendo che si trattava la gelosia di quello la che stava servendo quello la che gli ho detto guarda che io servo prima lei e dopo l'altro lei prima perché ero qui prima una volta allora ho messo negozio cioè ho messo un laboratorio in via giacchiero andava a prendermi il lavoro e veniva qualche cliente anche tutto quanto era un po' riservato lì ci sono rimasto diversi anni finché un giorno uno di piazza martiri un signore di piazza martiri che ci conosceva dice perché non mettete il negozio e dove lo mettiamo in piazza martiri la è una parola mettere un negozio e si è proprio vicino dove abito io e allora siamo andati a vedere e siamo entrati in un negozio in piazza martiri abbiamo messo lì il titolo fotolaboro e abbiamo continuato a lavorare per quello l'ottico e per la clientela che veniva per 17 anni poi quando è uscito fuori il colore che a me non piace colore nemmeno adesso quasi quasi perché perché dopo un po di tempo sbiadiva sto colore erano i primi tempi sbiadiva allora io quando ho visto che è nato il colore e dovevamo dar via e ci davano una percentuale ho chiuso baracca e buratini questo film è fatto a strappi proprio ma ci è voluto per fare sto film qui due anni buoni sono voluti mentre eravamo la in piazza martiri ancora prima di andare via io ero in camera oscura stampavo le fotografie perché bianco e nero allora tutto quanto stampavo poi lasciavo tutto lì nella bacinella e ci pensava mio fratello a portare avanti io invece scappavo e venivo qui in porto perché sapevo che c'era un tale lavoro da fare per esempio il nerofumo c'era un nerofumo tornavo a casa poi negozio e poi mi informavo c'era magari il carico della farina la in quel punto la allora c'era il carico della farina scappavo da la lasciavo mio fratello quando sapevo che c'era una scena da fare la facevo per esempio il sughero i minerali il barco del grano la davanti poi quando caricavano il grano la era bello perché salivo sopra i carroponti lo facevo vedere che lo prendevano dalla stiva portavano sulla tramoggia poi sono sceso giù e facevo gli imbuti legavano i sacchi del grano tutto quanto lo faccio vedere che lo portano dentro i vagoni insomma seguivo la scena finito quello me ne veniva a casa perché ma non potevo fare due scene non c'erano nemmeno due scene per volta se arrivava il grano oggi caricavano la farina magari domani oppure due giorni dopo come mai la passione per il porto questa passione questo voler correre perché sono qui perché abitavo qui vedevo e mi interessavo e allora c'era ancora vivo mio suocero che andava giù a raccogliere la scarabia che lasciava le locomotive per la stufa e allora vedendo tutte queste manovre qui la i treni che passavano fumavano tutto mi è venuto in mente di fare questo film ho detto se entrassi un po' in porto a fare questo film io avevo un permesso dell'ente portuale perché se no non poteva entrare e ce l'ho ancora adesso avevo ancora tutti i miei capelli neri con questo permesso io potevo andare dappertutto salire in gru dove potevo andare anche a vado ma sono a vado non sono mai stato ho sempre lavorato qua e via avendo avendolo qui il porto davanti vedere se locomotive e vedere steguro che vanno sui carro ponti che camminavano mi appassionato quello mi appassionato questo film qui mi appassionava tanto ero tanto entusiasmo che quando lo vedeva attraverso il mirino ho detto queste riprese me le porto via cambiamenti proprio durante il periodo del film non ce n'è stato almeno che sappia io non ce n'è stato quella lì c'era quello lì c'era quello lì c'era tutto uguale come prima cioè il film è stato finito che era guarda e dopo che hanno cominciato a smaltellare il porto è andato a terra devo dire a me interessava tutto 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 ogni scena che io ho fatto mi è sempre entusiasmato lo sbarco del grano il carico della farina lo sbarco del ferro lì tra filati e blocchi di ferro il sughero il grano i minerali tutta roba che mi ha sempre entusiasmato non posso dire quello mi ha fatto più colpo dell'altro no quello che mi costava un pochettino era i minerali perché facevano un polverone che non finiva più io oltre che facevo il film mi godevo lo spettacolo di questo lavoro che facevano e mi meraviglio come ho fatto a introdurmi in quest'idea di fare questo film sono salito sopra le gru per fare vedere quando caricavano le macchine nei cari ponti invece ho seguito lo sbarco del grano dei minerali ricordo solo in particolare qui quando caricavano alla farina che c'era uno che adesso non mi ricordo il nome aveva la gamba di legno prendeva i sacchi e aggiustava lì con sta gamba dura perché era di legno dunque i portuali quando li stavo cinematografando c'è qualche d'uno ti rompe le balle allora lavoravano io invece mi divertivo e invece ce n'erano tanti che ci tenevano ci tenevano molto specialmente quelli che erano nei camion nei vagoni a caricare la roba anzi erano contenti perché si vedevano poi nel cinema stavo facendo un film dove c'era il buono e il cattivo cioè cattivo era quando saliva sopra le gru e i caro ponti perché era pericoloso e tutto quello che mi spaventava ma allora ero più giovane forse adesso mi dicesse lo faresti di nuovo film del porto ma nemmeno per sogno sono tutto malandrato qui per andare sulla gru c'era una scaletta piccola così allora salio qui in su e così nei caro ponti anzi nei caro ponti bisognava stare attento perché ero qui c'era tanto spazio così e lì c'erano i binari della della cabina che si spostava avanti e indietro e c'era c'era del pericolo ma lo sapevo che c'era quindi stavo attento a andare a cadere sopra l'unica cosa che sono stato attentissimo è stato qui nel nero fumo ho detto qui faccio un po questa gente qui sono tutti neri in faccia vedevo questa gente poverazza che lavoravano nel frattempo cambiavano il volto perché avevano gli occhi infossati sembravano fantasmi poi quando sono uscito fuori da lì ero peggio di loro come se avessi lavorato anch'io e quando smarcavano il ferro anche perché c'erano lastroni di ferro e sotto la gru li prendeva bianchi stavano attenti c'era pericolo per loro per me no perché io ci stavo attento mi mettevo nei punti più giusto perché lo spostavano a destra a sinistra grumaglio di ferro lungo con le gru li portavano sui camion io dovevo stare attento perché passavano davanti proprio sono andato giusto nelle gru sono andato proprio la dei manovratori si vedeva che giravano le maniglie per tirare sulla roba è bello insomma è interessante e per finire il film ho detto cosa faccio adesso che fine gli do altro film l'ho finito la davanti che c'è dei pescatori e dice è stata una è stata una giornata ottima di intensa adesso un po di riposo tramonto e un'alba finisci così il film però è bello perché c'è compreso anche le azioni via l'ho proiettato qui non so se era da dongenta in un locale di dongenta o dell'arribagliato ma credo è dongenta c'erano le autorità l'hanno applaudito è un film io lo chiamo un film alla buona però l'hanno applaudito mi è piaciuto insomma l'insieme poi ho studiato un po come fare il commento perché gli ho dovuto chiedere ditemi un po la data ditemi un po cosa tante cose io non le sapevo l'importanza dei numeri qualcosa e allora l'ho chiesto a un amico mi cercavo diciamo nella mia piccola intelligenza cercavo di sfruttare quello che poteva essere utile e che facesse colpo diciamo ecco e poi i filmi quando lo vedranno lui parla per me lui parla per me perché quasi quasi e lo riproietterei di nuovo l'ho riproiettato un anno fa e l'ho controllato che non ci siano stato quelle quando la questione guai se sono quelle da buttare via la cellulosa necessita all'industria cartiere alle industrie tessili e a gran parte dell'industria chimica quindi dai porti nordici giungono al nostro scalo marittimo enormi quantità di cellulosa e pasta di legno e inoltre rotoli di carta grazie a tutti